Ultima Tadanas, la fase principale dei lavori che ha consentito di riaprire al doppio senso di marcia al tratto della strada statale 172 Dir dei Trulli a Fasano. Un tratto inserito nell'altipiano collinare delle Murge caratterizzato da pendenze elevate e curve a raggio ristretto. Un fatto questo che ha reso complesse le opere finanziate dalla Regione Puglia con circa 15 milioni di euro. Sono stati lavori complessi perché vengono realizzati in un ambiente particolare, quello della Valle d'Itera e quindi abbiamo dovuto anche ottemperare tutte le prescrizioni ambientali, abbiamo dovuto lavorare in sicurezza, abbiamo avuto interferenze importanti quelle dell'acqua erotto pugliese. Si tratta di un'importante opera di adeguimento ai fini della sicurezza per l'utenza, soprattutto nel periodo estivo, ma anche in vista della famosa crono scalata a Fasano Selva del 28 agosto prossimo, sospesa lo scorso anno proprio a causa dei lavori. La stagione estiva che è iniziata, ovviamente la gara che è uno degli appuntamenti della nostra estate, che l'anno scorso non si è tenuta, ma soprattutto un tributo alle vittime che nel 2008 hanno dato in là alla realizzazione di questo progetto, che è una messa in sicurezza molto importante. Sono state apposte barriere di nuova generazione, è stata allargata la sede stradale, sono state rettificate le curve, i lavori, è stato detto nel corso di una cerimonia inaugurale, saranno definitivamente ultimati tra una ventina di giorni. Grazie a tutti.